Presidente Sottile, sono arrivate appunto le linee per il piano strategico di rilancio per il settore. L'Unire avrà determinati compiti. Che cosa ne pensa e come l'ha accolto? Beh, io ho accolto bene questo piano perché in pratica anche noi ci stiamo muovendo su questi stessi obiettivi e su queste direttrici di marcia. Ecco, indubbiamente comincia un lavoro nuovo, una collaborazione con i ministeri da noi sempre auspicata e quindi credo che siamo sulla strada giusta. Noi sappiamo tutti che il mondo dell'Ippica è in pratica interessato da varie componenti quindi si tratta adesso di mettere a frutto questo lavoro che rimane sempre un lavoro importante che fa stato della situazione e noi procederemo secondo le indicazioni che il ministro ci ha dato quindi confidiamo di raggiungere buoni risultati perché, ripeto, noi sul doping stiamo già lavorando sull'esigenza, stiamo lavorando bene sull'esigenza di avere corse corrette ovviamente siamo pienamente d'accordo. Il piano sulla giustizia sportiva? Il piano sulla giustizia sportiva, io adesso il dettaglio, l'allegato ancora non l'ho avuto però noi stiamo lavorando sulla giustizia sportiva, nel consiglio dell'amministrazione di domani il consigliere Madafu dovrebbe portare un documento che se non è conclusivo è quasi conclusivo abbiamo cambiato alcune cose già importanti, ne cambieremo ancora certamente quello è uno dei tanti problemi che affliggono l'Unire, non lo sappiamo perfettamente 45 giorni sono un po' stringenti? 45 giorni vediamo quello che è possibile fare, va tenuto presente che l'Unire è sprovvisto di dirigenti e vive un momento di particolare crisi sotto questo aspetto comunque noi sia come consiglio d'amministrazione sia come struttura dell'Unire ce la metteremo tutta certo, 45 giorni che vengono dati il 29 luglio, lo stesso Ministro in pratica ha parlato di una sospensione estiva e poi ecco questi 45 giorni, in 45 giorni si può fare molto quindi non è che noi dobbiamo al 45 giorno arrivare a un prodotto finito però possiamo esserci vicino, ci sarà un dialogo, immagino, ci sarà un dialogo con le amministrazioni